E adesso Martina si vorrà sicuramente riscattare dalla caduta la trave, immaginata da un carattere fantastico, sempre grintosissima. Prima diagonale per lei, randata, salto tempo, salto tempo, flick, doppio raccolto, arriva un pochino scarsa ma se ne accorge, saltellino e recupera la situazione. Si parte per la seconda diagonale, salto teso con un avvitamento, salto teso. Brava nel recuperare anche qui lo stacco del secondo salto, il primo era leggermente deviato, è stata molto brava. Vedete qui come il salto con la flessione del capo possa creare problemi poi in fase d'atterraggio. E via, cambio di musica. Facciamo con un giro, passiamo di nuovo in diagonale, corsa, randata, flick, doppio carpio, bene. Peccato non è riuscito a stopparlo davvero per poco. Uno, due giri in accosciata, anche qui probabilmente non saranno dati due. Brava Martina. Grazie. 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 Grazie.